... ... ... ... ... ... ... Immaginate un concetto. Allora uno dice ma questi sono imbecilli o sono a vedere il concetto? Perché dovete darci le parole, voi ci date le parole e noi vi seguiamo, avete una responsabilità. si può scrivere a una donna ti raserò l'aiola io penso di no se voi siete i nuovi depositari della parola voi siete i nuovi poeti allora parlate come parlavano i grandi poeti della storia i grandi poeti della storia non è che hanno parlato